Allora la compagnia Farò Follie porta comicità, cabaret a tutto andare. Sì, noi siamo esattamente una compagnia che ci chiamiamo... Sì, Farò Follie, guardate questo qua, quindi non ci si sbaglia sicuro. E abbiamo degli scherzi di cabaret comici dal titolo Mearid. Mearid e portiamo esattamente un po' di comicità di cabaret alla manifestazione qui a Tre Ponti il 22 di luglio, venerdì. Perché sono posizionati non il lunedì come le commedie, ma siamo esattamente un sui generis. Sì, proprio quello lì. Ecco, quindi faremo questo spettacolo di un paio d'ore di risate, scherzi di cabaret, che abbiamo rappresentato in parte anche al Teatro Rossini quest'inverno, il 13-14 febbraio a Pesaro. Esattamente. Quindi venite tranquillamente, perché la risata è l'unica medicina che non ha controindicazioni. Siamo d'accordo? Ed è gratuita. È gratuita, è gratuita. Sì. È vero, è vero, è vero. Sì. Tant'è che noi ci chiamiamo Mearid. Sembra una medicina, ma è la medicina vera, quella che fa star bene, quella che ti fa divertire come un matto.